Ciao a tutti, dipendenza emotiva, ecco come uscirne in quattro semplici passaggi. In questo video voglio spiegarti come uscire dalla dipendenza emotiva in quattro semplici passaggi. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo di notare che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande. Adesso veniamo al tema della dipendenza emotiva. È importante sapere che cos'è la dipendenza emotiva. Dipendenza emotiva è dipendere, diciamo, da qualche altra persona emotivamente. Cioè, praticamente vuol dire dipendere come emozioni da qualche altra persona. Noi sappiamo che la nostra parte emotiva si nutre di emozioni e quindi tendiamo a diventare, tra virgolette, succubi di chi ci dà emozioni. Questo è importante saperlo. Quindi è ovvio che noi dobbiamo viverci emozioni interagendo con gli altri, perché non possiamo vivere emozioni senza interazione. Questo dobbiamo tenerlo presente. Le emozioni si sviluppano necessariamente attraverso l'interazione. Questo è fondamentale, questa è una cosa molto importante. Però l'interazione, diciamo, può avvenire dipendendo dagli altri. Cioè, io credo che soltanto gli altri possano darmi emozioni. Quindi nella mia parte emotiva diventa dipendente. Come un tossico diventa dipendente da un pusher. Perché è lui che gli dà la dose, diciamo così, di cui ha bisogno. Ecco, questo è da tenere presente, da prendere in considerazione. Mentre invece potrebbe essere che noi dobbiamo, e quello che infatti uscire dalla dipendenza emotiva significa questo, significa imparare a liberarsi fondamentalmente da questi blocchi e non dipendere più dagli altri per vivere le emozioni, ma diventare emotivamente autosufficienti. Allora, quindi come possiamo superare la dipendenza emotiva? Beh, intanto dobbiamo dire questo, che la dipendenza emotiva ovviamente si basa sulle nostre paure. Si basa soprattutto sulla paura di essere abbandonati. Ecco, quindi le persone che poi temono di essere abbandonati e sviluppano dipendenza emotiva iniziano a sviluppare anche tutta una serie di altre caratteristiche poco utili, poco interessanti, come ad esempio tendono a diventare gelosi, tendono a diventare ansiosi, tendono a diventare possessivi, tendono a diventare invadenti, diciamo, anche da un certo punto di vista. Come si può uscire, come si può venire fuori dalla dipendenza emotiva? Beh, ci sono diversi modi per potersi liberare, diciamo così, una volta per tutte dalla dipendenza emotiva. Il primo punto, la prima cosa sicuramente fondamentale è la consapevolezza. Cioè per essere in grado di uscire fuori dalla dipendenza emotiva devi attraversare lo stadio della consapevolezza. Essere consapevole di cosa? Beh, essere consapevoli di essere dipendente emotivamente. Questo lo capisci osservando dei tuoi comportamenti, perché spesso non ce ne rendiamo conto. Ad esempio se hai sempre bisogno di chiedere a qualcuno, al tuo partner, hai sempre bisogno di chiedere cose, hai sempre bisogno di affidarti alla supervisione di qualcun altro, del tuo partner, ad esempio, nel caso di dipendenza emotiva verso il partner, hai paura di discutere perché temi di essere, diciamo, abbandonato, hai paura di sentirti rifiutato, non prendi mai iniziative se non ricevono il sostegno delle altre persone, cerchi, perché poi la dipendenza emotiva non è soltanto nei confronti del partner, cerchi costantemente l'approvazione e il sostegno delle persone che ti circondano, quindi amici, familiari, colleghi, cambi umore, diciamo, abbastanza spesso, ti adatti a quello che gli altri pensano perché credi da solo di non essere in grado di poter portare a termine una situazione del genere, hai, diciamo, una costante insoddisfazione, hai sempre bisogno di cercare amore, di vivere amore delle altre persone, vuoi controllare il tuo partner, sei geloso, sei gelosa, non ti fidi. Ecco, questi sono tutti i segnali che indicano che stai, che sei una persona dipendente emotivamente. Pensi che solo l'altra persona possa renderti felice, che tu poi potrai essere felice soltanto grazie, diciamo così, all'intervento, all'intercessione di un'altra persona. Ecco, questa è un'altra caratteristica delle persone che hanno sviluppato una dipendenza emotiva. Il secondo punto è dare priorità a se stessi, iniziare a concentrarsi su se stessi, quindi canalizzare le proprie emozioni su se stessi, iniziare ad amarsi, iniziare ogni giorno a fare delle cose che ti danno delle emozioni, in modo tale da diventare padrone delle tue emozioni. Prova nuove attività, prova nuovi hobby, prova a conoscere persone diverse, rimetti a fuoco te stesso, quindi agisci, fai delle cose che ti possono dare veramente qualcosa di importante. Quindi è l'azione che ti dà la possibilità di capire come gestire le tue emozioni. Questo è un qualcosa di fondamentale, di molto importante, quindi rimettiti in gioco, datti ogni giorno delle emozioni. Ecco, questa è la cosa fondamentale. Il terzo punto è sviluppa, e questo è importantissimo, una mentalità positiva, cioè inizia a sostituire i pensieri negativi. Non posso vivere senza di lui col pensiero, vivo benissimo senza di lui, anzi vivo ancora meglio perché mi faccio le cose che mi piacciono, mi gestisco la mia vita nel modo migliore. Ecco, inserisci questo tipo di pensieri, è importante, è fondamentale. E come quarto punto, diciamo, inizia a prendere un po' le distanze dal tuo partner, inizia ad autosomministrarti un po' tu l'abbandono. Quindi fatti in modo rituale, diciamo così, in modo quasi cerimoniale, ma devi essere tu che ti autosomministri, diciamo, delle tensioni emozionali. Questo è molto importante. Se tu riesci a fare questo, se impari a fare questo, otterrai dei benefici non indifferenti, perché riuscirai veramente a raggiungere nuove situazioni, riuscirai veramente a raggiungere nuove possibilità. Autosomministrandoti, diciamo, per così dire, l'abbandono, il rifiuto. Ecco, questo ti farà veramente, farà sì che la tua parte emotiva e riconoscerà nella tua parte logica un simbolo e quindi ci sarà uno sgancio completo dalla dipendenza emotiva. Seguendo questi quattro passaggi, riuscirai a liberarti abbastanza facilmente dalla dipendenza emotiva. Per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo che ti puoi abbonare al canale. Abbonandoti potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande. Per questo video è tutto. Ti do appuntamento al prossimo. Ciao! Ciao!